Devo andare a chiamare Luca. Ho mangiato il tonno in cucina. Il tuo amico vive in una villa. So che sei in vacanza adesso. Oggi ho molte cose da fare. Ho un appuntamento per cena. Il mio collega è a casa sua. Vado in vacanza a settembre. Il mio cane non esce di casa. Vado a nuotare ogni giorno. Ho bisogno di una pausa. Oggi a Napoli fa molto caldo. Non ci vediamo da due anni. Ho cucinato per la mia famiglia. Questo tavolo è di plastica. Ci vediamo al cinema fra un'ora. Ho risposto a un messaggio. Ho risposto a un messaggio. La maglia è su questo scaffale. L'anno scorso ero in Portogallo. Mi hai detto di non dire nulla. Diciamo a un messaggio negli anni. Ho risposto a un messaggio. Meti. Ma vuoi. Mi hai detto in capo. Cosa, lecce. Loicene. Loicene. La prima volta. Ho risposto a un messaggio. Ho risposto a un messaggio. Ma vuoi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.